Tu stai qui in stanza, mi raccomando. Sono con un amico in stanza perché ho paura di giocare a sti giochi da solo! Ah! Che cos'è questo? È tipo l'ufficio segreto del signor Krabby Scringchoo. Lui, madonna, quanto lo odiavo quando guardavo SpongeBob. Lui lo odiavo tantissimo, ragazzi. Proprio lo volevo schiacciare perché è un cacchio di insetto. Anche perché poi è pure cattivo. Cioè, perché è così cattivo? Ah, ecco, questa è la tipo sua moglie. Dice, brrr, sei così noioso. Fa proprio così. Ma sei così noioso? Dice di premere questo pulsante rosso. Vai, allora premi. Vediamo un attimo che cosa succede perché non... Però, premi. Ah, devo premere. Non quello. Ha detto che cacchio c'è. Ha detto una brutta parola. Oh no, sta continuando a dire brutte parole al signor tizio qua. Dice che non me ne frega niente di te, di tutte le tue cose. Vai a quel paese e non volevo mai sposarti. Fai schifo e ti devi proprio esplodere male. E lui ovviamente adesso impazzisce completamente. Che cacchio... No, brutto messaggio. Bruttissimo messaggio. Non si fa questa cosa, chiaramente. Però c'è il signor Krabby che ha completamente ucciso il tizio. Che non mi ricordo come si chiama. Cosa succede? Oh no, è un pazzo questo qua, ragazzi. È un pazzo. Bro, che cacchio messa è di... Allora, siamo all'interno del negozio. Praticamente quello là di Spongebob classico. Questo è Squiddy. Dice che dobbiamo fare altri Krabby Patty. Oh, ok. Allora, come si fanno i Krabby Patty? Sporge... No, Spongebob Squarepants. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a trovare il modo per fare i Krabby Patty. Eccoli qua, ragazzi. Ho sempre sognato di farli perché non ho mai capito quale fosse la tecnica segreta di Spongebob. Però come cacchio faccio a prenderli? Pronto? Oddio, che bello. Si possono pure rubare i soldi? Cosa è storia? No, c'è tipo un codice. Ma non c'era nessun codice? Ma no, che cos'è sta roba? Vabbè, sentite. Rubbiamo tutte le cose del signor Krabby. Ah, c'è il panino qua che si può prendere. Si deve mettere qua sopra. Dopodiché si prende questo coso, si mette qua sopra. Oh, stiamo facendo veramente un Krabby Patty, ragazzi. Assurdo. Ah, bisogna metterlo in padella. Certo. Ha senso. Dice, aspetta che la carne si cuocia. Va bene, aspettiamo un attimo. Oddio, ragazzi, stiamo facendo un Krabby Patty. E lì dietro cos'è che c'è? Comunque è incredibile la visuale di Spongebob. Era molto brutta. Se si sarà fatta, probabilmente sì. Perfetto. Mettiamola qua sopra. Allora, devo prendere il formaggio che è proprio qui. Ok. E poi metterlo sopra il panino. Mmm, che buono! Ve lo mangerei tutto questo Krabby Patty. Certo, ci sono degli scarafaggi per terra, quindi non è proprio bello. Ho tipo l'ingrediente segreto. Ora, bisogna forse entrare in questa... Ok, l'erba. Oddio, ragazzi, avete capito qual è l'ingrediente segreto delle Krabby Patty? L'erba. Allora, questa cosa qui... Cioè, questa... Questa è un po' d'erba, praticamente. Ed è l'ingrediente segreto. Eccolo qui, l'ingrediente segreto. Allora, per chi non sapesse che cos'è quest'erba, praticamente ti fa stare bene. È una droga, praticamente. Vabbè, dovevo dirvelo in un qualche modo. Che cos'è la droga? È una sostanza che agisce sul cervello e che ti fa stare bene. Ma poi potrebbe creare altre cose che fanno male. Non lo so, non sono un medico. Sto dicendo comunque cose. Ehm, e lei vuole l'ingrediente segreto delle Krabby Patty, per caso? Ok, bisogna portarlo qui. Allora, un altro drogato, perfetto. Prego, prego, signore. Adesso si mangia il suo Krabby Patty. Oh! Cosa sta succedendo? Questo è stato il Mr. Krabs che ha fatto distruggere la casa, sicuramente. Ha detto di trovare un'arma e investigare. Oddio, che schifo è sta roba. Non lo so. Allora, troviamo un'arma e investighiamo. Allora, questa cosa era bloccata, quindi bisogna andare da questa parte. No, è tutto bloccato, ragazzi. Ah, eccola qua l'arma. Allora, questo era il signore della polizia. E dice, non è la sua. Non me ne frega. Bam. Ah, ah, che brutto. L'ho ucciso, perfetto. Ragazzi, che cos'è sto SpongeBob? Non doveva succedere questa cosa? Ma poi scusami, ma perché l'ho ucciso così? Cioè, vabbè, andiamo a vedere cosa è successo qui. Magari, eh... Ragazzi, ho paura, eh. Non so se si sente, ma ho molta paura. Bro, ma che cacchio è sta roba? Assurdo. Guardate qua. Si è distrutto tutto. Tutto quello che poteva essere distrutto è stato distrutto. Però, non so, devo buttarmi qua sotto? Vabbè, io mi sono buttato. Eccolo qua, SpongeBob, che è molto inquietante. Eccolo qui. Guardatelo qui come sorride. Ciao. Oh, sembra che io abbia perso la mia pistola. E come cacchio hai fatto a perderla? Letteralmente è caduta insieme a te. Ma sopra non c'è niente, ragazzi. Ma non so come ci sia finito qua. Però, allora, cerchiamo di uscircene da qua. Perché, se no, è un problema. Come si fa ad uscire da qua? Seriamente. Ah, qua c'è una corda. Ok. E si va avanti da questa parte. Cerchiamo di non lasciarci niente indietro. Anche perché... Mmm... Però di questa cosa non mi fido, ragazzi. Mi sto spaventando tantissimo. Perché potrebbe spuntare il Mr. Krebs. Con il suo metodo omicida. E farmi proprio fuori. Cosa devo fare, però? Ah. Ah. Madonna, mi è caduto in testa. Va bene. Qua c'è delle telecamere, però. Mmm... Non credo sia importante. Per il momento. Però, tipo, mi servirà una scala, immagino. Quindi andiamo a trovare una scala immediatamente. Perché ci servirà per prendere tutte le cose. Brr, eccolo qua. La scala. Prendiamo la scalona. Ok. Mettiamola qua sopra. Benissimo. My man. Il mio uomo, ragazzi. Abbiamo trovato la nostra arma che ci serviva. Adesso, così, il Mr. Krebs. Non si metterà contro di noi, mi sa. Proprio no. Ecco qua. C'è tipo il contattore della corrente. Qua proprio facciamo saltare. Bisogna farlo saltare in aria. Sbam! No, non posso. Ah, qua però ci sono le munizioni. Mi sa che bisogna davvero farlo saltare in aria. Vediamo. Oh. Come si spara, ragazzi? Ha bisogno di ricaricarlo. Ah, certo. Come nei veri giochi spara tutto. Sbam! Ma. Siamo proprio buoni, proprio forti questi namo qua. Sì, quindi niente, ragazzi. È un problema. Mi sa. Aiuto. Mi sto spaventando un pochino. La madonnina. Sono morto. Come? Bro. Bro. Sono morto. Ma che cacchio sono morto, ragazzi? Ottimo. Perfetto. Adesso andiamo a prendere l'armetta qua. Cioè, scusa, la scala. Però, ragazzi, adesso mi chiedo. Come cacchio facciamo adesso? Perché sul serio io non so come fare. Allora, prendiamo l'arma. Perfetto. Andiamo da questa parte. Cioè, qua si muore, ragazzi. Come si fa a fare sta parte? Sul serio? Non sto scherzando. Si muore? Come si fa? Allora, spariamo qua al contatore. Ok. Andiamo da questa parte. Adesso ci carica la zona. E ora ci sono i tizi. Però forse bisognerà tipo scappare. No, 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 no. Per favore, per favore, per favore, no, per favore, no. Ok, sono vivo? Sul serio sono vivo? Non si vede assolutamente niente. Ma proprio niente. Ma proprio zero. Allora, vediamo un attimo. Non c'è ma niente proprio. Shutdown. Allora, ricarichiamo prima che... Poi ci muodiamo. Ok, perfetto. Avevo le munizioni. Che cacchio devo fare qui? Domanda? Domanduccia? Mi apriamo questa porta. Ok, va bene. Ragazzi. Porco due. Oh, zio. Ma che cacchio mi sta a dir, raga. Ma porco birillo. Ragazzi. Qua devo dire tante di quelle cose brutte che giustamente non si dicono per educazione, giusto? Però io devo dirle qua perché veramente mi sto cagando addosso. Come cacchio si apre sta roba? Non si apre. Mi sa che ci conviene fare come il tizio all'inizio. Abbiamo un'arma in mano. Sfrutti. No, sto scherzando. Oh, 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 oh. C'è una siringa. Abbiamo già capito come funziona la vita. No, scherzo. Sto scherzando. No, 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 no. Sto scherzando. Sto scherzando. Sto scherzando, ovviamente. Allora, come si va a prendere la siringa? A parte gli scherzi. Bisogna andare da questa parte per caso. Ah, ha delle munizioni qua. Oh, ragazzi. Non l'ho manco visto. Questo è Mr. Krabs. Dice non morire, per favore. Doveva darmi qualcosa. Praticamente dice che c'è un mondo lì fuori che ha bisogno di me. E quindi dice che spera che non sia solamente un brutto sogno. Cioè, spero che sia solamente un brutto sogno, ovviamente. E mi ha dato questa cosa, ragazzi. Ho premuto H. Non dovevo premerlo, mi sa. Ok, questa è la card che bisognava prendere prima. Qua magari c'è qualcos'altro. No, perfetto. Allora, andiamo da questa parte. E prendiamo la card. Cosa devo premere, forse? Ok, perfetto. Sto usando... No, 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 brutta storia. Non ho più la siringa, purtroppo. Cosa sta succedendo qua, ragazzi? Questo robot mi fa molta paura. Ma aiuto? Ragazzi, che paura? Ok, beh, tutto bene. Cioè, insomma, adesso appena esco fuori muoio palese, però, insomma. Speriamo che non sia così. C'è qualcosa che brucia. Qua mi sa che devo far saltare in aria questa cosa per un qualche momento. Nyeh, sono morto. Allora, bisogna un attimo capire come battere questo boss. Perché in effetti è il boss Krabby... Krabs, praticamente, si chiama. Oh, ci sono delle siringhe qua. No, 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 brutto, brutta, brutta storia, brutta storia. Oh, eh, dai, però, cazzo! Ragazzi, scusate, veramente, scusate. È che mi fa arrabbiare perché... Se io dico... Cioè, allora, va bene, va bene, togli, grazie. Ok. Adesso prendo questa. No, 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 brutta storia. Mi posso nascondere qua sotto, mi sa... Ho capito, ma se mi lancia le cose, io non posso difendermi. Oh, che cacchio è? No, 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 zio, zio, zio. Ascolta un attimo, ascolta un attimo. Facciamo così. Ragazzi, io non so che dirvi. Non c'ho più le munizioni. Cioè, eh... E beh, che cacchio faccio? Ah, qua ci sono, invece. No, ragazzi! Ah! Ah, aiuto, 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 aiuto. Via! Aia, 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 brucia, 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 brucia. Allora, smettila. Krebs, allora, hai rotto le scatole. Krebs, basta, immediatamente, devi smetterla, perché mi stai facendo innervosire. Non sto scherzando, mi sto innervosendo. Non funziona. Ma, ragazzi, io ho preso le munizioni. Oh, ho preso le munizioni e non funziona. Ma, regà, ma che cacchio è sto gioco? Ragazzi, ma che cacchio vi devo dire? Ma, assurdo! Assurdo! Ma non funziona un cacchio sto gioco. Allora, ascoltate... Ah, eccole qua le munizioni. Ok, allora, prendiamo immediatamente da qua. Scusate un attimo, adesso sono un pochino innervosito, perché sto gioco... Ma come, caspita, funziona? Allora, ricarica sto coso, ok? Poi prendi ste cose, bene. Ok, dopodiché qua, non so, c'è un libro. Ci sono altre cose che posso prendere, perché mi sembrano un po' scarsine le cose qui all'interno di sto gioco. Potete, per favore, far qualcosa di... Un pochino di più, non so, metterle a... Che si autorigenerino, magari... Ok, allora... Questo qua... Insomma... Brutto, ma ya, va bene. Mi ha preso per una volta, però... Allora, cerchiamo di usare ste cose... Ah, avete capito, bene. No, 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 brutto, 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 brutto. Comunque, se andiamo da questa parte, lui non ci prende, praticamente. Facciamo così, sbam! Servito a niente, praticamente. Vabbè, andiamo qua, lì. Perfetto. Perfetto, così. Allora, continuiamo. Andiamo da questa parte. Aia! Aia, 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 ho preso la siringa, però, con il medicamento. Ovviamente si chiama medicamento. Ok, così. Prendiamo di nuovo la siringa, proprio così. Mi sa che prima era buggato, ragazzi. Aia, aia, brutta storia, brutta storia. Ah! Ok, allora... Spariamo qui, lì, spariamo lì, spariamo lì. Eh, dai. Cacchio, però... Mamma mia, che palle sto gioco, mamma mia. Eh, certo, e poi cos'altro? Spostati! Cristo Dio! Ma, cioè, è assurdo, ma non si vede niente in sto gioco. Assurdo. Raga, questo... Ma veramente? Ma che cacchio ha, Mr. Krab? Cioè, Tiju, mi fa innervosire. Non riesco a fare altro che prendere le siringhe! Guardate qui, assurdo! Ma non è possibile! Eh, beh, io che cacchio faccio? Ma, ragazzi, questa cosa non è possibile, però, eh. Allora, quello là sta fermo lì in un posto. Raga, io non so che dirvi. Figlio di puttana... Scusate se qualcuno si offende perché mi sono arrabbiato, ma a volte io mi arrabbio. Guarda questo. Allora, questo... Come cacchio è possibile che questo qua mi prenda da fuori adesso? Se io ero, tipo, esploso mentre ero dentro quella roba là. Certo che è comunque spaventoso, sicuramente. È molto spaventoso. Non so perché Mr. Krabs è diventato tutto ad un tratto un pazzo. Forse ha mangiato troppi crabby patti con quella roba dentro. Lasciate like. Iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!